La Puglia sta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocità massima consentita dall'attuale disponibilità delle dosi, con l'approvazione del piano regionale vaccinale, con la calendarizzazione delle prossime fasi. Ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l'attesa dei cittadini, lo comunica l'assessore alla sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco. La struttura organizzativa appare definita in modo adeguato, spiega il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. La cosa più rilevante è aver strutturato un'organizzazione capace di somministrare un numero molto più elevato di dosi di vaccino su tutta la Puglia. Quando saremo dotati di maggiori quantitativi di dosi, la struttura sarà pronta a vaccinare e tempestivamente molti più pugliesi. Stando ai dati pubblicati giornalmente dal report vaccini anti-covid-19 sul portale del governo, la Puglia risulta essere attualmente la prima regione italiana per somministrazioni di vaccino effettuate rispetto alle dosi consegnate, con una percentuale del 99,3%. L'assessore e il Dipartimento comunicano che con il piano regionale vaccinale è stato dato mandato ai direttori delle ASL di Arlestire i punti per la vaccinazione di massa su tutto il territorio regionale. Nel piano sono indicate le tappe per programmare la vaccinazione dei soggetti tra i 79 e i 60 anni, che potranno progressivamente esprimere la loro volontà di vaccinarsi già a partire dalla fine del mese di marzo.